Pablo Picasso, genio del cubismo, arriva a Firenze al museo di Palazzo Strozzi con una rassegna di opere provenienti dalla collezione del museo Reina Sofia di Madrid. La mostra Picasso e la modernità spagnola non è solo Picasso, ma anche il rapporto tra lui e l'arte spagnola, tra gli artisti iberici e le influenze picassiane. Questo sguardo sul rapporto tra l'arte spagnola e Pablo Picasso introduce la comprensione dell'arte del Novecento, di cui Picasso fu protagonista indiscusso, mito della trasformazione, della scomposizione artistica come simbolo della modernità nell'arte. Picasso ha fatto un'idea dell'artista moderno che può rompere con l'arte tradizionale e fare arte di cose che non sono artistiche, ma allo stesso tempo è l'artista che sta sempre sguardando la storia dell'arte e il museo. La mostra ripercorre il periodo della carriera artistica di Picasso compreso fra il 1910 e il 1963, 44 le opere legate alla forma e alla linea, all'irismo e alla poesia. Esposte opere come Testa di Donna, Il ritratto di Dora Marr per la prima volta in Italia e tre versioni del Pittore e la Modella, poi il Clou dell'Esposizione, i disegni preparatori per il capolavoro Guernica. Nel percorso della mostra sono presenti anche alcune opere degli artisti spagnoli del tempo di Picasso, Dalí e Miró, artisti spagnoli artefici dell'evoluzione dell'arte moderna.